Il Salento negli ultimi anni ha dovuto giocare in difesa a causa della Xilella, ma ora è pronto ad andare all'attacco e tornare ad essere protagonista radicato nel territorio. Per favorire tale processo, importante il supporto di tutta la comunità, per questo si sta battendo l'associazione Olivami, che ora sancisce la collaborazione con l'Unione Sportiva Lecce e insieme hanno piantato un olivo al Via del Mare, che sarà il dodicesimo uomo in campo, simbolo della rinascita del Salento, volto a sensibilizzare anche il pubblico sportivo sulla necessità di ricostruire il paesaggio attraverso l'adozione di nuove piante. Che sia di buon auspicio per la squadra, come ha detto il nostro arcivesco, che sia d'auspicio, che ci protegga e che duri la nostra esperienza nella massima serie per quanto può durare la vita di un olivo, quindi tanto il più possibile. Proprio questo è il significato che stiamo dando a questa collaborazione con l'Unione Sportiva Lecce, quello di concretizzare delle azioni sul territorio, coinvolgendo l'affetto dei tifosi nella ricostruzione del nostro territorio, che è stato distrutto dall'Axilella. Sarà un punto importante anche per lanciare un messaggio ai giovani. Sì, esatto, quello di riavvicinarsi al proprio territorio, quello di credere nelle potenzialità del Salento, perché ne ha davvero tante, e abbandonare i terreni non è la scelta giusta. Per me è un segno di speranza questo, una speranza concreta.